Francesco Carbini, capogruppo delle liste collegate a Cresce e San Giovanni, commenta le possibili primarie del PD tra Valentina Vadi e Andrea Fusari. Il riferimento è all'immediato passato di entrambi i protagonisti. A parte gli auguri personali ad entrambi, mi viene subito una battuta. Sembrano tutti venuti dalla luna. Nessuno rivendica la precedente amministrazione Villigiardi. Che ha governato per dieci anni, sembra che non solo nessuno rivendica, ma nessuno nemmeno critica dieci anni di questa amministrazione Villigiardi. Quindi noi su questo siamo un po' esterrefatti, come credo sia esterrefatto a tutti i cittadini sangiovannesi. Addirittura dalle notizie che appaiono dagli organi di informazione tenderanno a camuffarsi con pseudoliste civiche di appoggio o addirittura un allistone generale per mimetizzare il PD. Ecco, anche questo credo che la dice lunga su chi non ha avuto né la forza e la responsabilità di assumersi questi dieci anni di misfatti sangiovannesi, né chi poteva avere la forza invece di criticarlo al proprio interno e non l'ha fatto e magari ora lo farà negli ultimi mesi di campagna elettorale.